Dopo l'ultimo studio del Consiglio sicuramente è emerso all'interno del Consiglio, così come noi diciamo da cinque anni, che vi è la necessità vera e urgente di ridurre la pressione tributaria e quindi ridurre il costo del rifiuto e la relativa Tari, così come è necessario rivedere nell'immediatezza l'importo della Tasi con riferimento alle detrazioni che siano questa volta veramente a favore delle famiglie, soprattutto numerose. E poi è chiaro che il Comune di Teramo ha dei problemi economici e li ha nella liquidità giornaliera. È necessario che il Sindaco decida e faccia una riduzione della giunta con riferimento anche all'indennità e al numero, anche perché tutti questi assessori non servono se pensiamo che negli ultimi nove mesi, che negli ultimi nove mesi di amministrazione del Sindaco Brucchi, nessuna vera programmazione politica è stata fatta in tanti campi e in tante materie e è facile effettuare una riduzione. Prima fra tutte va considerato che non occorre un assessore alla cultura, visto che nessuna programmazione ha fatto nessun evento in questi nove mesi, neanche con una spesa minima è stata effettuata. Va valutato che forse va eliminato l'assessore all'istruzione, considerato quello che è successo negli ultimi nove mesi, e il fatto che non è riuscita a dare una risposta alla richiesta di collocazione all'interno dei nidi, va sicuramente ridotta ad uno le tre figure che fanno riferimento agli assessori all'urbanistica e all'edilizia, in quanto il ramo è stato da mesi unificato, c'è un solo dirigente e tre assessori. Non si comprende il perché, credo che come si sia unificato e si sia ridotta ad uno il dirigente, credo che vada ridotta ad uno l'assessore di riferimento. Quindi già con questa operazione noi riusciamo a ridurre di quattro assessori all'aggiunta e a risparmiare un minimo di 120.000 euro l'anno.